Amici, rieccoci da Domenico Fotocolor, abbiamo una novità per voi, abbiamo beccato, l'abbiamo sequestrato tipo Isis, il nostro amico, l'interista, il signor Mazzella, che vogliamo un po' sapere da lui come vedi questa partita di martedì, Napoli Inter, sfida di Coppa Italia. Allora innanzitutto saluto tutti, saluto il mio amico Michele e il mio amico Domenico, volevo fare un saluto a tutti e volevo dire per prima cosa che è un onore essere presente in questo video, aspettateci un po'. La partita di martedì è dura, è dura però da interista sono fiducioso che credo che il Napoli non affronterà questa partita al massimo delle loro potenzialità perché comunque avere le tre competizioni è un po' dura, quindi c'è il campionato, c'è l'Europa League, la Coppa Italia vedo che voi la slobberete un poco. No, per noi nulla è coppetta, come dicono, per noi è una partita contro l'Inter, non ci interessa per cosa, giochiamo per noi contro l'Inter. Voglio ricordare proprio questa cosa che mi hanno detto l'Inter non pensa alle coppe, vogliamo ricordare che il 25 di dicembre a Natale c'è stata una piccola rissa a casa Mancini perché nel soppacavallo non c'era l'asso di coppe, proprio per questo perché Mancini non pensa alle coppe, hanno praticamente sciabolate che volavano, bomboni che esplodevano sotto i panettoni, uno spettacolo bruttissimo, cosa che non ci vogliono vedere. Visto che c'è un interista qui, voglio chiedere, voi da interisti che vivete a Napoli, napoletani, sentite sti cori contro Napoli nelle curve a Milano, cosa ne pensate? Non ti saprei dire se è una cosa che viene da parte di tutti i tifosi. Tu sei interista, ti fai l'Inter, ti fai quella squadra, la tua squadra ci fa una chiave, la mia squadra, come l'Inter, i tifosi dell'Inter, la presidenza dell'Inter non ha mai detto mi ce ne tifostate zitti, non dite queste cose, se li porta dietro pure quando andano a fare i trasferti e tu, tu sei interista, come ti senti quando ti dicono che tu sei un napoletano, in Pesuvio e tutto il secondo. No, io non mi sento offeso, non ti senti offeso, diciamo che lo studio si sta enfocando, ci abboniamo, ci abboniamo, ci abboniamo questo momento perché non vogliamo unirci a questi scalbanati, questi tifosi che non sono tifosi, non guardano lo sport, vogliamo subito Domenico salutare, Gino Marzella, ci vediamo mercoledì, non per altro perché poi un ragazzo in gamba e ragazzi ci vediamo, ci vediamo mercoledì dopo la partita, ci prenderemo un caffè insieme, signori, se l'assunto è evitato, bispo per noi!